Le Red Bull mi danno la sensazione che una volta che hanno risolto quei problemi evidenti che ogni tanto fanno trasparire soprattutto le prove libere, cioè l'affidabilità e altro problema è la competitività in qualifica, secondo me mi danno la sensazione che possono essere dominanti a lungo andare. Secondo te è così? Sì, beh, Verstappen ha un ruolo di marcia impressionante perché ricordiamo che quattro vittorie è un terzo posto ma questi sono i risultati dove lui è arrivato, perché nella prima e nella terza gara se vi ricordate si era ritirato, quindi quando arriva arriva a podio e diciamo che non si è ucciso particolarmente per cercare di vincere a Monaco, quindi non aveva assolutamente l'interesse per farlo, quindi un terzo posto sornione. Anche perché a Monte Carlo ha capitalizzato, perché dei quattro, due Ferrari e due Red, secondo me è stato quello meno performante tutto il weekend, però insomma… Bravo, bravo perché sì era quarto in qualifica, era dietro Perez, era dietro… Io ho seguito pure le prove libere, ma non è stato mai, 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 anche sui tempi dei passi gara, mai competitivo, sempre dietro a Perez, sempre dietro alle Ferrari. Però ti dirò, per me questo è l'atteggiamento da campione. Sì, 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 capitalizzare, certo. Perché diciamo che tutti vogliono vincere a Monaco, lui ha vinto lo scorso anno, quindi lui ormai diciamo si è tolta la soddisfazione di vincere su questo circuito così prestigioso. Quindi ora può stare tranquillo e veramente… si è limitato veramente a correre da ragioniere, no? Come si diceva una volta.